ci sei? ma dove sei? dove sei andata a fare l'inversione in Lapponia? no ma lei dove sei? e dove sei andata a fare l'inversione sto andando 30 all'ora è andata in Lapponia eh non so io ah muoviti al c***o c'era sta roba eh non ti vedevo più eh la strada è una dove devo essere andato eh non ho capito cioè non puoi aspettarmi ma sei andato a 20 all'ora eh andavo a 20 all'ora certo eh no dopo ti faccio vedere il video e vedi quanto andavo ero in seconda ero fermo ma se non farlo offesa eh mi sono fermato infatti cioè andavo a 20 all'ora mi son fermato e fai l'offesa boh guarda mo che picco che spettacolo questa qua è la camminata di Dio di Gesù di Cristo lì dov'è? sì vabbè quello lì insomma quella che c'è Bergamo Brescia cos'è? ah quello malantolto è durato un anno eh il ponte il ponte suo non sarà cos'è boh? quel pezzo lì lo droniamo assolutamente eh e comunque siamo arrivati a San Moritz alle 8 meno 20 di sera comunque a me questi giri qua da vichingo mi casano un sacco eh è che tutte le settimane non reggo più il ritmo ma ho bisogno ogni tanto di riposarmi tipo domenica scorsa che veramente non ce la facevo più ah sì perché cioè guarda arrivi qua con un po' la penombra il sole che tramonta sul lago che poesia proprio bello San Moritz però forse sai che come paesaggio mi piace di più più avanti dove c'è Silva Plana? vorrei che spettacolo con questa luce questo pezzo qua è veramente bellissimo dai andiamo che qua si può andare dai che siamo arrivati al Maloia qua ci siamo fermati l'altra volta qua sotto c'è il passo vai LEDKTM vai davanti che qua facciamo un po' di bagarre ciao 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 ciao